Vediamo cosa c'è dentro di te, Aghiwaghi! Ah, questo non serve! Chad! Un attimo! Un autografo! Tieni! Levatevi! Ehi, Chad! Fanz, l'ha per tutto! Vieni, ti do una mano! Sì, ti prego! Dai, sediti! E questo cos'è? Colpiscilo! E allora? Ma che succede? Tranquillo, tra un poco lo scopri! Atterraggio perfetto! Ma dove siamo finiti? C'è qualcuno! Eccolo! Andiamo! Ma come mi hanno trovato? Siamo in diretta! Oh, giusto! Al fuoco! Che figata! Ma dove siamo? Ma tutto bene, Yorick? Paura? Ha neanche un poco! Anzi, ha un'idea! Tadà! Che ne pensi? Che schifo! Ciao, ragazzi! Sono arrivati in una cripta! Diamo una bella pulita! Iniziamo prima con la barra! Quante ragnatele! Quante ragnatele! E questo che cos'è? Oh, che carino! C'era il mio animaletto! Inquietante! Qua! 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 Fatto! La barra è come nuova! Ciao, ragazzi! Ci vediamo il prossimo episodio! Ora decoriamo con un bel telo rosso! C'è qualcosa che manca! Aha! Certo! Stupendo! Kaya, guarda com'è venuta! Ah, stai giù! Decorazione perfetta! Tutto è pronto! Ciao, ragazzi! Mi piace la mia nuova stanza segreta! Fica, vero? Potete farvene una anche voi! È facile! Ci vuole solo un po' di tempo e di pazienza! E il più è fatto! Ehi, ma che sta facendo Kaya? Mh, che delizia! Oh no, mi sono sporcata di nuovo! Stesso problema qui! Gli hamburger lo fanno, sì! Ehi! Aia! C'è un sacco di urbaccio sul pavimento! Però ci può servire! Ti piace? Sì, sì! Guarda che ho trovato! BAM! Wow, fantastico! Aggiungiamo fiori! Ma certo! Sono una zombie! VV7 e te scheletro! Dai, ora tocca a te! Decorazione fatta! Non male! Dammi il cinque! Uh-huh! E' ora di andare a letto! Sogni d'oro Kaya! Anche a te! È troppo buio qui! Ah, ho trovato! Ta-da! Kaya, sto provando a leggere qui sotto! Ma stai zitto! Ah, questo è proprio un bel fumetto! Lo metto qui! Batti il cinque, amico! Oh! Un passaggio segreto! Eh? Ma tu lo sapevi! Dai, andiamo! Tuffiamoci! Dai, vieni! Occhio alla testa! Stammi dietro! Incredibile! Chat, guarda! È oro! E guarda quante robe fiche! Wow, bellissimi! Su! E giù! Su! E giù! Su! E giù! Su! Ah! Una mommia! Fermo! Le mie belle! Cosa avete fatto? Non aver paura, sono io! È svenuto? Sì! Wow! Ma dove vai? Quel posto è mio! Ah, va bene! Ma però è scomodo! Devo fermi e venire in mezzo qualcosa! ecco qua! Ecco qua! Oh no! La batteria è scarica! Ah! Ah! Ma qui non c'è una presa! Ecco qua! Ah! 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 Ti troverò! Ti troverò, Chad! Non c'è! Ah! Ha toccato questa! Ma che facciamo? Sono annoiata! Guarda chi ha trovato! Sì! Una bella serata film horror! No! Più a destra! Ah sì! Così va bene! Ho i pop corn! È fighissimo! Ah! Non posso guardare! Ah! Mi sento male! Sicuramente è qui! Allora, quale scegliamo? Cavolo, ora è tutto fradicio! Non riesco a leggere niente! Kaya, vedi se riesci a leggere tu! Non so che cosa fare! Guarda meglio! Se vi ricordate come si apre la cassaforte, scrivetelo qui sotto! Cosa? Sì! Dovete credere in voi stessi e non... Chad, vado a un appuntamento! E vai! C'è dei miei feristi con l'outfit! È stupendo! Dammi un secondo! Ecco, provati questi! Sarai stupenda! Questi? Ok! È un bel cappello! Sicuro? Va bene! Guarda da te! Non ne sono sicura! Sono la nuova caia! Bando a un appuntamento! Ti ha scritto qualcosa! L'ha annullato! L'ha annullato! Ehi! Dette un'occhiata più da vicino alle decorazioni! Certo! Che abbiamo trovato! Firma di questo! Ma come avete fatto? Ancora con questi live? Cosa? Sono stata io a trovarlo! Oh, giusto! Ehi! Ciao! Aspettate! Ciao! Ti piacciono i corti? Iscriviti al nuovo canale Wogham! Oh, io lo adoro! Ma chissà se atterreremo mai! Au! Ma dove siamo finiti? Che posto strano! Ci sono tonnellate di cartone! Oh, c'è una porta! Ora usciamo! Si apre! Ma diamo un'occhiata in giro! Arrivo! Anche se ti sembrerà strano... Le pareti sono completamente di cartone! Casco di cartone! Non vedo niente! Jake, stai bene? Credo di sì! Ho trovato dei cartoni per le uova! Un sacco! Ottimo! Io prendo i cartoni! E io tengo l'uovo! Pronti? Jake! Cosa? Essere uno chef è stato sempre il mio sogno! Chi vuole delle strafazzate? Utilizzerò questi cartoni per fare un divano alla moda! Beh, è sicuramente particolare! E anche comodo! Fame? Oh, molto gentile da te! Siediti! C'è abbastanza spazio per due! Oh, che bel divano! Che belle uova! Jake! Guarda che ho trovato! Fantastico! Il latte! Portalo qui! Eccolo! Che buono! Ce n'è altro? Altro? Ce n'è un cartone pieno! Portalo tutto! Ho un'idea! Farò qualcosa con queste bottiglie! Mi ne servono di più però! Cartone! Ma certo! Ho fatto degli sgapelli! Jake, vieni qua! Facciamo antifarti! Mi prendo in giro! L'infincibile super cartone sta arrivando! Guarda che ho trovato! Oh, pizza! Ci stava proprio uno spuntino! Come mai è vuota? Inutili scatole! Non c'è la pizza qui! Basta lamentarsi! Portami della colla! Dai, aiutami a incollarle! Fantastico! Adesso abbiamo un tavolo! Però io ho ancora fame! Dammi un secondo! Una pizza per Jake l'ha affamato! Sì, grazie! In guardia! Tieni la tua spada! Non puoi evitarmi! Ti ventirai di avermi sfidato! Che noia! Ragazzi, ho un'idea! Sputa! Facciamo il gioco del mimo! Perché no? Ok! Io prima! Chi sono? Un uccello! Sì! Ho indovinato! Fortuna! Attenzione! Chi sono? Oh, lo so io! Aspetta, anche Jake deve indovinare! Sei una... Ragazzi, avete per caso idea di che cosa ha fatto Chad? Io non lo so! Scrivetemelo sotto! Ma con chi sta parlando? Ma con chi sta parlando? Mi potrei mangiare un cavallo! Ehi! What? Ordiniamo una pizza! Oh, what? Sì! Ma come la paghiamo? Ma certo! Soldi di cartone! Questi basteranno! Chi ha ordinato la pizza? Siete qui? Consegna pizza! Pizza! Il vostro ordine! Ma chi paga? Questo è per te! Tieni il resto! Soldi di cartone! Ah, ho capito! Volevate solo il cartone! Ciao, ciao! La porta! No! Che cosa avete fatto? Potevamo andarcene! Ehi, ma perché solo io? Ah, questo è carino! Sono super scomoda, però! Ciao! Ho preso una scatola e una lente di ingrandimento! Farò un proiettore! Bello! Bravissimo! Allora, tagliando qui... Che emozionante! Oh, wow! Il proiettore è pronto! Dammi il telefono! Premi play e spegni le luci! Ah, che divertimento! Ah, questa è la parte migliore! Ma... E qui dentro che c'è? Wow, una pianta! È un po' secca, ma va bene così! Ora la innaffio e la lavo! E sarei nuova di zecca! Che noia qui! Mi eserciterò con la mira! Ah, fuori! Ops! La mia pianta! Jake! Non volevo scusa! Aspetta! Ti faccio un altro vaso! Meglio che ti sbrighi! Ho quasi fatto! Hmm... Pronto! Il vaso è pronto! Spero che piaccia alla tua pianta! Ma grazie! Mi resta solo innaffiarla! Wow! È resuscitata! È un miracolo! Oddio che è caldo qui dentro! Non ce la faccio! Ho un'idea! Aspettatemi qui! Facciamo le pale! Ritagliamole! Incolliamo bene! Ma che sta facendo? Colleghiamo i pezzi! Attenti tutti! Voilà! La ventola è pronta! Ma la tua ventola non ci raffredda! È inutile! Sa io cosa fare! Plichiamo il cartone zigzag! E ora il ventaglio gigante è pronto! Molto meglio! Ah! Non capite! Chad! Tocca a te! Ah! Giusto! A te! X! Hmm... 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 X! Cerchio! Eh sì! Una X! Ho vinto! Ma chi ha spento le luci? Niente luci! Niente a gioco! Ehi! Ho trovato delle candele! Fantastico! E qui c'è dello spago! E delle gomme! Adoro le gomme! Ma che ci facciamo con lo spago? Ora faccio una mega bolla! Chad! Fermati! Ho un'idea! Avvolgiamo lo spago attorno al palloncino! E ora lo scoppiamo! Porta candele pronti! Oh! È tornata la luce! Torniamo al nostro gioco! Farsi i capelli senza lo specchio è dura! Oh! Ti aiuto io! Sarò il tuo specchio! Che stai facendo? E tu? Che fame! Qua che cosa c'è? Ah! Del cioccolato! È carta stagnola! Oh! Perfetto! Facciamo una base di cartone e mettiamoci la carta stagnola! Voilà! Lo specchio è fatto! Ci faccio una bella cornice e la decorerò con dei cuori! Ecco a te, Kitty! Wow! Grazie! Ora un tavolo da toilet! È perfetto! Deve essere qui il cioccolato! Ops! Ma dov'è? Chi è stato a mangiarlo? Scusa, non saprei! Non so di cosa stai parlando! Chi fa la torre più alta vince! Siete stati invitati a una festa in piscina! Hmm... Ah, non ho tempo! Ho troppo da fare! Scusami! E va bene! Allora prendo la scatola! Ehi! Ehi, no! Stiamo costruendo un castello! E un'altra! E un'altra! E un'altra! Sono confuso, ma... Dove finiscono? Chad! L'ultima scatola! Abbiamo finito il castello! Hmm... Oh, grazie mille! Chad! Che stai facendo? Tutti dentro! Woohoo! Wow! È una piscina vera! Ehi, come va piccola? Puoi da bere? Veniamo anche noi alla festa! Troppo tardi! Ora c'è un biglietto! Aspetta, cosa? È ora di rompere il salvadanaio! Non è giusto! Sto cominciando ad annoiarmi qui! Kitty, sei tu la ragione per cui siamo finiti qui? Cosa? Jake è il motivo per cui ci siamo rinchiusi! No, è tutta colpa di Chad! Basta! Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui! Eccola un'idea! Ci faremo un'apertura per la porta per conto nostro! Che ne dite? Possiamo farcela! Andiamo! Facciamo i pezzi! Io disegnerò la serratura! E la maniglia è pronta! Vai, dai, apri! Siete pronti? La porta si è aperta! Usciamo! Ah, finalmente a casa! Mi piaceva di più la stanza del cartone, però! Ma hai ragione! Arrivo! E fratello, vuoi giocare? Chad, mi dispiace! Vado al college! Ah, il college! Dimenticavo! Un bel saluto, virile! Stammi bene! Ci vediamo! Jake, già mi manchi! Ci vediamo presto! Buona fortuna al college! Chad, fratello! Sono a casa! Ti sono mancato! Mi sei mancato un sacco! Chad! Beh, la verità è che odio mio fratello! Ma perché? Prova a indovinare! Chad! Sì, prendi questo! Sì! Chad, giochiamo a basket! Tira! Ora è così che gioco a basket! Cosa? La mia palla preferita! Ma che cavolo! Chad, ho i biglietti per la partita! Ci sei? Io e te! Proprio come ai vecchi tempi! Biglietti! Wow! Ma sappiamo che ti piacevano! Oh sì! Ops! Si sono rovinati! Chad! Che cosa è stato? Saranno le cuffie! Chad, aiuta! Uno zombie mi sta inseguendo! A presto! Salvami! Che cos'è questo rumore? Oh, ciao zombie! Non ha funzionato! Ecco i tuoi soldi! Cervello! Cena in famiglia! Jake, sei al mio posto! Ah, giusto! Tieni, siediti! Chad, questa è Kitty! La ragazza di Jake! Per favore, fai le spazio! Kitty, siediti! Siamo felici di conoscerti! Beh, spero che andrei d'accordo con mio fratello! La ragazza di Jake è l'ultima cosa di cui avevo bisogno! Che antipatica! Ops! Ho rotto il piatto! Perdente! Oh, non fa niente! Kitty, ti faccio vedere l'album di famiglia! I miei ragazzi sono stati amici del primo giorno! Inseparabili! Prendi questo! Difenditi! Tieni qua! Prendi questo! Sì, inseparabili proprio! Denti lavati! Mi è venuta un'idea dalla mia mente malata! Vediamo che succede se metto della tinta nello shampoo! Ora lo vediamo! Dovevo scioglarmi! È ora! Oh, Kitty! Il bagno è tuo! Grazie! Chissà come ne stanno i capelli verdi! Cosa? Non è successo niente! Ma come? Oh, cavolo! Ho dimenticato dove ho aggiunto il colorante! Ehi, ragazzi! Vi ricordate a quelle bottiglie ho aggiunto del colorante? Scrivetelo qui sotto! Avete cinque secondi! Tre, due, uno... Allora dov'è? La prima bottiglia? Siete sicuri? Ok! Controlliamo! Oh, verde! Avete vinto! Salve! Una consegna per voi! Oh, finalmente! Grazie! Aspettavamo da un sacco! Che stanno complottando? Fai piano! C'è dell'indietro! Ce l'abbiamo fatta! Sì, divertitevi per il panco! Lasciamolo qui! Avresti dovuto pensare un posto più sicuro? Distruggiamolo! Facciamo un bel casino! Oh, mi è caduto! Prendi questo! Voilà! Che altro posso fare? Vuoi vedere la mia schiacciata? Sì! Sì! E voi! Mi sa che è da riparare! Jake avrà una bella sorpresa! Kitty, sei pronta? Oh no! Il pacco! Ma non possiamo fare molto altro! Chad! Questo è il tuo regalo! Ah, per me! Non dovevate disturbarvi tanto! Che giornata meravigliosa per nuotare in piscina! Giusto! Oh, Jake! Mi è venuta un'idea! Fammi una foto in piscina! Ma certo che sì! Molto gentile! Com'è venuta? Vediamo! Cosa? Ma come fai a essere Chad? Cosa? Rifacciamola! E ora? Sono confuso! C'è di nuovo Chad nella foto! Oh, mamma mia che caldo! Ma come fa? Stai fermo! Sto facendo delle foto! Cosa? Impossibile! Lo tenevo d'occhio! Ok! Chad, ci faresti una foto? Va bene! Sorridete! Fatto! Grazie! Oh no! Ora sono due Chad! È impossibile! Dove posso mettere i miei fumetti? Qui no! Neanche lì! Ma dove li metto? Giusto! La valigia di Jake! Vediamo! Eccola qui! Vediamo che nasconde Jake! E vai! Ah, che noia! Le mie vecchie foto! Oh no, no! Voi non avete visto niente! Capito? Questo cos'è? Davvero? Un anello di fidanzamento! Non c'è più posto per te, Chad! Oh no! Non lo sopporto! Kitty, sei pronta? Stanno uscendo per un appuntamento! Devo fare qualcosa! Noi andiamo! Certo! Aspettate, non mi sento bene! Sto malissimo! Ti sei preso il raffreddore? Beh, eccoti una cassetta medica! Dai, dobbiamo andare! Ma ha la febbre! E va bene! Vediamo che cos'è che non va! Termometro? Ho sete! Fa caldo? No, non è buono! Non mi piace! Ti va di giocare ai videogiochi? Certo! Una pillola per il mal di gola! Grazie! Dai, Jake, vai! Ah, che caldo! No, freddo! Ma stanno dormendo! L'appuntamento è andato! Missione compiuta! A posto! Un messaggio! Da mamma! Tesoro, sei malato? Sto correndo a casa! Oh no! Certo, tesoro! Come stai? Andrà tutto bene! La mamma è qui! Vedrai stare bene in un lampo! No! È il momento! Attenzione! Vorrei fare un annuncio! No! Io vorrei fare un annuncio! Oh cavolo! Si è rotto il bicchiere! Siamo tutte orecchie! Quello che volevo dire è... Mamma! Il tuo pollo è spettacolare! Non ho mai mangiato niente di meglio prima! Oh, c'è ragazzo mio! Non esagerare! È vero! È proprio delizioso! Ecco fatto! Il momento è passato! Mi piace davvero? Bene! È una nuova ricetta! E sarò felice di insegnarvela! Spiegato! Ma io... Grazie, certo! Magari la prossima volta! Fratello, avrai una bella sorpresa! Ora ti faccio un sacco di buchi nel materassino! E poi affonderai! Buona fortuna! Devo solo aspettare! Quando affonda ci sarà da divertirsi! Dai! Ehi, cosa? Ah, sì! Jake? Jake? Dove sei? Jake, vieni fuori, per favore! Ah, ha fregato! Ciao, Jake! No! Ti ho presa! Ecco! Sei il mio salvatore! Ehi, Chad! Bel tatuaggio! Ciao! Sì, lo so! Tieniti forte, Kitty! Non l'ho fatto apposta, Chad! Oh, scusa! Il mio tatuaggio! Sfigato! Non c'è niente da ridere! Kitty, vuoi sposarmi? Jake, aspetta! L'anello! Sei tu il motivo per cui non posso fare la proposta! Togliti di mezzo! Non te lo permetterò mai! Non voglio che ti sposi! Io ti odio! Jake se n'è andato al college per un anno intero e mi ha lasciato da solo! Niente più giochi tra fratelli! Niente più divertimento! È stato orribile! È ovvio che fossi arrabbiato col mondo! E ora questo stupido anello! Sì, ci siamo proprio divertiti insieme! Giocare con Jake era la cosa più divertente di sempre! Nessuno si diverte come lui! Fratello, rimetterò tutto a posto! Fratello, rimetterò tutto a posto! Fiori! Candele! E atmosfera romantica! Fatto! Jake, Kitty, accomodatevi! Questa serata è solo per voi! Torno più tardi! Sei gentile? Ma che gli succede? Jake, l'anello! Oh, grazie! Kitty, mi vuoi sposare? Oh, Jake! Certo che sì! Andata! Oh! E vai! Grazie! Sono al settimo cielo!